Questo paper si tratta con il design concettuale del BIMSURS per i DEMO Neutral BIM Injectors. DEMO è una planta di potenza nucleare nucleare che è intenderlo a seguire il reattore di ITER. L'obiettivo principale della DEMO è provare la visibilità industriale della fusione per mostrare l'elettricità di produzione dalla reazione di fusione. L'injectione di ITER è uno dei sistemi principali del plasma. E' uno dei sistemi principali del plasma. Vi facciamo vedere una visione di un'injectione dei DEMO Neutral BIMSURS. Un grande esplorio di R&D è dedicato alla Europa per maximizzare l'efficienza e la complianza con la approccia di Ramy. Reliabilità, disponibilità, mantenibilità e inspeccabilità. L'obiettivo principale è di aumentare l'efficienza overall dei DEMO Injectors con riferimento ai ITER, dal 26% al 51%. Questo rappresenterà un grande avvento in termini dell'efficienza della DEMO. DEMO PLANT. Vi facciamo vedere un'injectione più vicino all'interno di un Injector Neutral BIMSURS. Il Injector Neutral BIMSURS features un'efficienza più alta di neutralizzazione, teoreticamente più grande del 70%. Un'adductor, con un sistema di pump dedicato a ridurre le perdure le perdure le perdure le perdure le perdure. Questi sistemi sono attualmente in R&D in Europa. In particolare, la DEMO PLANT. Ha stato ottimizzato per ridurre le perdure 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 le perdure. Il modello MAD glutusore del magnete e elettrostatico manuale, descrizione nel paper, ha Κ saying, il Wirom 0b. força di struttura ammesso consistente Il modello acquistante le soluzioni di design sono stati discutiti con diversi gruppi di ricerca che lavorano su aspetti relati della demo. In conclusione, il sviluppo del design concettuale della source di BIM per le demo MBI è continuato, cercato a un'efficienza overall di più di 50% e a una buona compilienza con Rami. Grazie per la vostra attenzione, più dettagli possono essere trovati nel paper.